La Polizia Municipale di Pescara si dota di un nuovo modernissimo mezzo. Si tratta del jumper, ufficio mobile provvisto di telelaser e drag test per misurare la velocità delle auto e controllare se i conducenti guidano sotto effetto di alcol e droga. Il jumper, presentato questa mattina presso il comando di via del circuito dal comandante Maggitti e dall'assessore Sulpizio, verrà utilizzato soprattutto in estate nella zona della riviera e nel periodo invernale a Pescara Vecchia, meta della movida pescarese. Perché noi con questo vogliamo dare anche un messaggio alla cittadinanza che Vigilurbano non va inteso soltanto come un mino che va a fare le multe. Noi vogliamo cambiare il rapporto in tal senso e questo mezzo va in quell'ottica, un mezzo nuovo super dotato di tecnologie avanzate che abbiamo presentato alla città e sarà un vero e proprio ufficio mobile che si sposterà nelle periferie, nei luoghi dove c'è necessità, dove ci sono dei punti anche di criticità e sarà un'attività di supporto alla cittadinanza. Sì, è un mezzo appena acquistato dalla Polizia Municipale grazie ad un cofinanziamento della regione Abruzzo che per due terzi ha sovvenzionato nell'ambito di un progetto europeo questo acquisto mirato alla sicurezza e alla presenza e alla prossimità dei vigili nelle zone più periferiche della città. Da qui ecco non solo il telelaser che abbiamo definito ma come si può vedere anche alle mie spalle un vero e proprio ufficio mobile attrezzato dove ricevere le persone che invece di spostarsi da San Silvestro piuttosto che da Zanni piuttosto che da altre zone periferiche della città potranno comodamente essere sedute all'interno di questo ufficio mobile, fare le loro segnalazioni che riguardano la Polizia Municipale ma anche le condizioni della segnaletica, della viabilità dei parchi e quindi essere noi a svolgere servizio proprio di prossimità nei confronti dei cittadini più disagiati o anche soltanto più lontani.